Oggi non sono in molti a ricordare che i movimenti fascisti all'inizio degli anni 30 non erano popolari solamente in Italia e in Germania. In Italia il fascismo di Mussolini era già al potere da quasi dieci anni, Germania lo aveva appena preso con Hitler, ma questi movimenti erano presenti e popolari anche in altri paesi d'Europa. Uno di questi sicuramente era l'Inghilterra, il Regno Unito. Proprio nel Regno Unito l'Unione Britannica dei Fascisti guidati da Oswald Mosley raccoglieva moltissimi consensi all'interno ad esempio del partito conservatore o comunque d'ambienti conservatori e di destra e proprio all'inizio degli anni 30 questo movimento fascista inglese ha il suo massimo, il verbo da dire splendore, comunque il suo massimo picco e l'episodio più importante che riguardò proprio l'Unione Britannica dei Fascisti e Oswald Mosley fu la battaglia di Cable Street di cui oggi voglio parlare. Questa battaglia di Cable Street si sviluppò il 4 di ottobre del 1936 quando appunto l'Unione Britannica dei Fascisti guidata da Oswald Mosley marciò su Londra, se così possiamo dire, ovvero nelle settimane precedenti il partito, questo movimento fascista inglese organizzò una manifestazione e lo fece, una manifestazione in camicia nera e con tutto insomma il corollario fascista dell'epoca, purtroppo si vede ancora oggi qui da noi e scelse, Mosley appunto, scelse come luogo per fare questa marcia, questa specie di marcia, un quartiere di Londra, Stepney, dove erano presenti innanzitutto moltissimi ebrei e soprattutto era un quartiere abbastanza così non proprio favorevole ai fascisti. L'intenzione di fare questa marcia in realtà fu resa nota circa una settimana prima del 4 di ottobre e immediatamente i residenti degli stand di Londra, dove il quartiere di Stepney si sviluppa, diciamo raccolsero le firme per chiedere alla polizia o comunque alle autorità pubbliche di non autorizzare la marcia e soprattutto di fermarla, ma questa cosa non andò molto in porto. Noi oggi chiamiamo questo episodio Battaglia di Cable Street proprio perché in questa via Cable Street ci furono episodi di guerriglia urbana. A contrapporsi all'Unione Britannica dei Fascisti fu un gruppo molto numeroso di tutte quelle persone antifasciste all'interno del quale erano compresi i laboristi, socialisti, anarchici, comunisti, liberali, ebrei, che appunto vedevano nel fascismo un pericolo, come effettivamente era, e volevano impedire che i metodi brutali, metodi arroganti di Mosley, della sua Unione Britannica e dei fascisti potessero prendere piede, insomma potessero trovare appoggio e una qualche forma di legittimazione da parte sia del governo che dell'opinione pubblica. Al momento decisivo, quindi il 4 di ottobre, si ritrovarono da una parte circa 2.500 fascisti di Mosley contro circa 20.000 antifascisti che si dimostrano risoluti nell'impedire ai fascisti britannici di compiere la propria manifestazione e la cosa molto importante per il Regno Unito fu che anche gli abitanti degli East End, scusatemi, che non si unirono direttamente alle manifestazioni, lanciarono contro i fascisti spazzatura, ortaggi, li coprirono di insulti, li fischiarono, facendo capire che non erano assolutamente favorevoli a questo movimento e tantomeno a questa marcia. La battaglia di Cable Street in realtà, l'evento in sé fu piccolo, fu circoscritto, anche se significativo, però non ebbe un grandissimo risalto. In realtà fu molto importante perché a seguito proprio di questo episodio fu pubblicato il Public Order Act 1936, ovvero una legge in cui si obbligava ad avere un'autorizzazione preventiva della polizia per l'organizzazione di queste marce politiche. Questo era un modo per tenere sotto controllo l'Unione Britannica dei Fascisti che da lì in poi venne attenzionata, noi diremmo, dai servizi segreti, dalla polizia. Oswald Mosley venne anche messo agli arresti domiciliari, poco dopo e poi durante la guerra, se ne andrà poi dall'Inghilterra. E ormai anche gli storici sono concordi nel dire che, al di là del fatto che in Inghilterra il fascismo non prese mai molto piede le idee fasciste, o gran parte delle idee fasciste non presero mai troppo piede nell'opinione pubblica e nella classe politica, ma l'episodio di Cable Street fermò definitivamente l'Unione Britannica dei Fascisti e un possibile sviluppo dell'ideologia fascista anche nel Regno Unito, che poi insomma magari avrebbe potuto dare esiti molto diversi agli eventi degli anni successivi. Con la curiosità ho deciso di fare questo video perché in questi giorni sto rileggendo la trilogia del millennio di Ken Follett e nel secondo libro, L'inverno del mondo, l'episodio di Cable Street è riportato ed è un momento abbastanza importante all'interno del romanzo e quindi appunto mi è venuta l'idea di fare questo piccolo video. Bene, spero che questo video vi abbia incuriosito e noi ci vediamo una prossima volta come al solito. Ciao a tutti!